23 marzo 1944. Alle ore 15 circa scoppia una bomba in via Rasella a Roma. La potenza del fuoco investe una compagnia per il primo battaglione del reggimento di polizia tedesca Bozen che transita a piedi. Dei 156 uomini tra ufficiali, sotto ufficiali e truppa, 32 militari rimane uccisi e 110 feriti. L'attentato darà origine alla rappresaglia tedesca, l'eccidio delle fosse Arliatine in cui verranno fucilati 335 prigionieri. A fixesarti. Il dipende al parterico interior. Il dipende living cos'中國